Mattinata grigia sulla costa, un primo maggio freddo, di fatto la stagione balneare che doveva partire oggi in modo facoltativo non parte. Tra 15 giorni i balneatori dovranno avere le strutture già pronte, ma c'è chi ha montato gli ombrelloni, ma il maltempo non permette la tintarella in spiaggia. C'è chi ha scelto però di fare una passeggiata o una corsetta. Niente da fare, il primo maggio dello scorso anno temperature gradevoli, sole, primi bagni e relax sdraiati in riva al mare. Oggi invece la stagione balneare in pratica non parte, gli ultimi weekend di festa abbagnati dalla pioggia. L'obbligo dei balneatori di avere le strutture pronte scatta tra due settimane, ma c'è già chi ha installato gli ombrelloni per la partenza stagionale facoltativa. A Termoli gli eventi in occasione della festa dei lavoratori a causa del maltempo sono stati annullati o rinviati, così come in molti altri centri della regione. Tanti scelgono ristoranti o trattorie, altri riposo a casa e c'è chi fa una corsetta o una passeggiata anche sotto la pioggia. Più che una corsetta o una passeggiata oggi non si può fare? Sì, il tempo purtroppo non permette, la stagione balneare ancora si fa tendere, l'unico subaccio per il momento è fare una passeggiata, tutto qua. Una camminata veloce, veloce ma proprio veloce oggi, causa pioggia purtroppo. Doveva partire la stagione balneare? Doveva, doveva, purtroppo ci ritroviamo in queste condizioni, però va bene lo stesso, noi ne approfittiamo comunque. Però la passeggiata la fate lo stesso? Sì, con la pioggia però sì. Ciao a tutti, veniamo dalla Finlandia, siamo a vacanza e uno giorno a Termoli. Bella Termoli? Sì, sì, molto bella. Benissimo Termoli. Ho fatto dei servizi, poi c'avevo l'ombrello di me, ora cammino, però la giornata non è bella oggi. Una bella corsetta? Sì, sì. Ciao, buongiorno.